Sulla sicurezza si gioca la qualità della vita nelle città e la Regione Toscana ha deciso di rispondere insieme a Lanci, l'Associazione dei Comuni, con l'assunzione di nuovi vigili di quartiere che patuglieranno tutto il giorno le piazze e le strade più sensibili. 3 milioni di euro è il costo del progetto che la Regione finanzierà per tre anni, un altro milione sarà investito per aumentare la sicurezza sui treni e sulle linee più a rischio dei bus. Noi andremo ad assumere in questa prospettiva qualcosa come 70-80 ragazzi che saranno opportunamente formati e assunti per tre anni, perché vogliamo un'iniziativa che comunque non sia solo limitata. Partirà questa iniziativa nel corso del 2019, agli inizi del 2019, perché ovviamente c'è da fare formazione, preparazione, da organizzare la cosa. L'obiettivo è quello di aggredire tutte le forme di insicurezza che spesso rendono difficile la vita ai cittadini e di proseguire un percorso già avviato con l'attivazione in 228 comuni di 171 progetti di videosorveglianza. Si tratta di individuare delle zone delicate, in queste zone dedicate di media ci saranno sei agenti che saranno finanziati dalla Regione nell'arco della giornata e che svolgeranno una presenza fissa su queste parti di città. Tra i provvedimenti per la sicurezza della Regione Toscana c'è anche l'inserimento di vigilantes nei pronto soccorso degli ospedali toscani frequentati da 250.000 persone l'anno. La sensazione di essere a disagio quando si chiude il bandone del negozio o quando si porta fuori il cane a fare pipì di sera è una sensazione che va assolutamente debellata. Certo c'è il numero dei reati, qui c'è il grande lavoro delle prefetture, delle forze dell'ordine, noi ringraziamo e con cui c'è una collaborazione costante dopo dei reti minniti anche nel tavolo di coordinamento per la sicurezza cittadina, quindi un rapporto ancora più stretto devo dire il vero e quindi c'è questo tipo di lavoro di prevenzione ovviamente e poi di aggressione a quelle che sono le forme di insicurezza che ci sono e che sono spesso anche derivanti dal buio, da zone sporche, poco vissute. Il presidente Rossi è tornato poi a chiedere al governo l'assunzione di nuovi poliziotti, 100 solo a Firenze e 20.000 in tutta Italia.